I luoghi delle nostre origini sono i luoghi della nostra originalità a livello di carisma e a livello di congregazione. Il capitolo generale 27, conscio di questa realtà, affida al Rettor maggiore e al suo consiglio una responsabilità maggiore e più diretta su quello che sono la ricchezza dei luoghi salesiani, nella internazionalità della comunità che le anima, nelle proposte carismatiche per i diversi gruppi della famiglia salesiana e per i giovani in particolare. Grazie per la visione! Vorremmo compiere con voi un vero itinerario a partire dal Colle Don Bosco, poi successivamente a Chieri e poi qui a Valdocco, luogo dal quale vi stiamo salutando. La scelta del Colle Don Bosco è significativa perché sono le esperienze iniziali della vita del nostro fondatore che hanno sicuramente segnato tutto il cammino dell'esperienza successiva. È il luogo del sogno dei nove anni, il luogo della convivenza con mamma Margherita all'interno della piccola esperienza familiare. Successivamente, presso Chieri, i dieci anni che valgono una vita, perché c'è l'esperienza della scuola, l'esperienza del seminario, c'è l'esperienza della società dell'allegria e il tempo del vero discernimento rispetto alle scelte future. Qui a Valdocco, invece, la possibilità di confrontarsi con la stabilizzazione del carisma, la nascita dell'oratorio, l'orizzonte missionario grazie alle prime spedizioni e la possibilità anche di confrontarci con quella fucina di santità giovanile che si è vissuta presso questi ambienti. Siamo custodi di luoghi vivi, per questo i destinatari di questi posti sono tutti i membri della famiglia salesiana, tutti i giovani del mondo, tutti i consacrati, sacerdoti, religiose, religiosi, laici che hanno a cuore l'educazione dei giovani e che possono tornare su questi luoghi che sono la terra santa salesiana per vedere, pregare, sostare, formarsi e approfondire quello che è stato il disegno di Dio per la salvezza dei giovani attraverso Don Bosco e la sua famiglia religiosa. Desideriamo invitarvi a venire a visitare questi luoghi sia al Colle Don Bosco come a Chieri e poi qui a Valdocco con l'intento non soltanto di soddisfare la curiosità di capire come sono strutturati ma soprattutto di vivere attraverso questi ambienti un vero e proprio itinerario spirituale e carismatico perché qui si sono realizzate e vissute le prime esperienze che hanno dato origine al nostro fiume di santità salesiana nel quale ciascuno di noi è ancora inserito. Vorremmo approfittare quindi non soltanto per proporvi di guardare gli ambienti, di visitarli ma anche di fermarvi con noi nelle celebrazioni liturgiche presso i nostri tempi al Colle Don Bosco e poi qui a Valdocco nella Basilica di Maria Auxiliatrice. Sono sicuramente opportunità preziose, uniche al mondo. Ci sarà poi inoltre la possibilità di fermarsi qui, di essere ospitati, abbiamo tante nuove strutture disponibili all'accoglienza. Ecco provare a mettere insieme la dimensione della curiosità con il vero itinerario spirituale e carismatico, questa è sicuramente un'opportunità che i luoghi santi salesiani possono ancora offrire oggi. La nuova evangelizzazione in chiave salesiana passa attraverso questi luoghi, attraverso la possibilità di pregare, pensare, riflettere e confrontarsi insieme. Per questo i membri della commissione dei luoghi salesiani sono disponibili a venirvi a incontrare nelle vostre ispettorie, nei gruppi di appartenenza, per poter insieme studiare e proporre forme nuove di una tradizione antica, quella sulla quale la nostra famiglia si fonda e quella nella quale trova unità. Grazie a tutti!